Escluso dalle regionarie del Movimento 5 Stelle poco prima del voto che ha decretato Sara Marcozzi candidato governatore per la regione Abruzzo. E quanto è accaduto all'economista Fabrizio Catullo, depennato, per aver espresso sul blog il suo dissenso nei confronti della politica del leader dei pentastellati Beppe Grillo. A Catullo non è andato giù il metodo con il quale è stato escluso, nonostante in cima al suo programma politico ci fosse proprio quel reddito di cittadinanza che Grillo vorrebbe introdurre a livello nazionale. Catullo, da economista, ha studiato scientificamente il modo per concretizzare il reddito di cittadinanza a livello regionale ma questo non è stato sufficiente ad evitargli il defenestramento dal blog e dal Movimento. Esprimevo già da un anno dissenso sulla linea sull'immobilismo politico di Grillo che per non perdere consenso né da destra né a sinistra si barcamena fra decisioni sparate più che altro. Non ho fatto tempo ad esprimere questo consenso che con un clic, in un secondo esatto, mi hanno tolto dall'elenco dei candidati. Infatti il 17 non comparivo su internet fra gli elenco delle persone da votare. Dopo che ero apparso su tutta la stampa locale, televisioni, giornali, improvvisamente il metodo stalinista di Grillo e dei suoi parlamentari ebruzzesi, ma non solo abruzzesi, sono sparito dalla circolazione. Insomma quello che ci vuole far capire è che alla fine non è la rete che decide. No, ma neanche per sogno. Un appello a tutti quanti gli spettatori che ci seguono ma piuttosto non votate, un appello, un invito all'astensione. Piuttosto che votare Grillo credendo di votare per la democrazia e per la trasparenza, beh è proprio il contrario signori. È la antidemocrazia e l'involuzione, altro che rivoluzione.